Ciao ragazzi, bentornati su Kingdom Hearts, Birth by Sleep, Final Mix. Nello scorso episodio siamo entrati nel cimitero dei Keyblade. E in questo episodio andremo dal boss finale della storia di Acqua. Quindi, vi invito a scrivervi a lasciare un mi piace o non mi piace. E ora, prima di andare dal boss finale, vi dico questo. Abbiate tutti i diari, tutti i diari appena arrivate al finale della terza storia. Dovete avere per forza, per forza ripeto, tutti i diari di Terra, di Acqua e di Ventus. Ho detto Ventus per ultimo perché è il mio preferito, ripeto. Comunque, perché vi dico questo? Perché uno dei diari di Terra si trova nell'Arena del Miraggio. Nell'Arena livello 10, o meglio, bisogna ottenere il livello 10 dell'Arena. O si ottiene battendo il prigioniero d'acciaio numero 2. E adesso, prima di andare dal boss finale, vi farò vedere le abilità di Acqua e anche i suoi comandi. Allora, le abilità sono le seguenti, non importano i premi, vabbè. Allora, tutte queste abilità, ovviamente al massimo. E consiglio, se volete stare sicuri, ma proprio sicurissimi, mettete Parata Buio, Parata Tuono, Gelo e Fuoco al massimo. Per stare, ripeto, al sicuro. Poi, ho tolto, vabbè, esperienza a zero perché sennò one shotto il boss finale. E con Tapasiesp l'ho tolto perché sennò farmo esperienza dal boss finale. Allora, tutte le abilità... E... Di... Mosse... Carica Tandaga... Blitz Donante... Firaga Tripla... Tempi Congiunti perché non l'ho mai usato, praticamente non l'ho mai usato in tutta la storia di Acqua. Ora lo uso contro il boss finale. Zona Minata, perché ci sta, e Due Energiga. Abbiatevi, prego, Due Energiga. Se giocate in critica, in critica, abbiate Due Energiga. Poi, togliete assolutamente. Autoscatto e Transfer. Toglieteli. Vi porteranno solo alla rovina, questi due comandi. Allora... Tutti questi cosi... E... Basta. Comando di tiro, fotocarica. Che vi farò vedere in questo episodio. Comunque... Ehm... Piccolo consiglio. Tornate indietro perché io ho fatto una cosa particolare che non vi dirò fino al prossimo episodio. Comunque... Vi chiedo scusa se sono ancora al 31. E ora... Andiamo... Dal boss finale. Con tanta lentezza, mi raccomando, Acqua. Ehm... ه ehm... ... Ehm... 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 Sì, è vero. 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 Sì. 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 Sì, che ti lasciate il popscolo con me, così puoi andare a fare la tua piccola con Terra. Non puoi essere molto felice con lui, con il Deep Six e il tuo maestro. Chi sei? Cosa sei? Cosa pensi che hai anche un grande ruolo per giocare? Come se. Tu sei solo qui per che quando ti finisco, Terra si succederà alla scuola. Quindi, chi vuole andare prima? Shut up! Oh! Quindi questo ragazzo pensa che è un giocatore giocatore. È un giocatore. È un giocatore. Perchè, se vuoi lasciare il tuo tempo. Stai cercando di uscire con i nostri giocatori. Non funzionerà! Terra potrà provare a te che è più forte! Aqua! Eh? Ma tu chi sei? Puh! Allora, attenti! Perchè? Perchè Bragg fa veramente male. Molto male! Vediamo come se. Vediamo come se. Ricordate dalla lotta di terra i suoi attacchi. Sono praticamente i soliti. Ok. Ok Ora attenti che quegli attacchi Quegli aghi, quei proiettili Non sono parabili E mamma mia quanto danno li abbiamo fatto Ok 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 E comunque si è possibile fare questa cosa Che è bellissima Ok Ok Ora purtroppo questa battaglia Fa molto Molto male Perché Cioè molto male Insomma è facile essere sconfitti Ma è facile anche sconfiggerlo Ora se la smettessimo con questo attacco Ve l'ho detto È tipo zero assoluto Solo che ha di elemento luce E fa abbastanza male Ok Come ho fatto a non beccarti vabbè Comunque Ma'am Come on Come on Come on Come on That's the end of that I keep forgetting don't mess with keyblade wielders But you know what That just means I made the right choice Well He wanted me to buy time And I'd say he got it Yeah What What? What? Aqua! I'm asking you I'm asking you As a friend Just Put an end to me Oh Oh I'm glad you're okay Oh Thank goodness Ben! Sei sicuro! Ben? Non è Ben! 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 Non è Ventus! Il suo cuore è diventato una parte della mia ora! Questa scuola crecerà una porta! Una che legge a tutti i mondi! Poi, scuola creare di scuola creare qui, da ogni e ogni uno di loro, per la battaglia per la luce nella luce della Chia. E come la legge dice, la guerra di Keyblade sarà iniziata! Ed ecco a voi Vanitas O meglio Venitas Aglio attenti a questo incrocio sonico Che fa veramente male Ok Ouch No davvero Questo boss fa veramente male Se ovviamente Topolino non lo spostasse Allora Ok Ora unica maniera per distruggerlo È attaccarlo Ok vai Topolino tocca a te Attenti Quest'attacco fa veramente male Ok Vieni qua bello Ok Mamma mia Fa veramente male questo boss E non scherzo Vi può demolire in un nanosecondo Oh mamma mia Allora Ora con esperienza zero Questo attacco Fa ancora più male Questo attacco con quadrato di Topolino Allora Ho sbagliato Ok Aio Ok 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 Perfetto Mamma mia No davvero Questo boss è forte Mi dispiace se non riesco a parlare Ma è davvero Forte Ok Colpo perfetto Ok ho fatto 50 cosi Ok Ok Perfetto Aio Bene Bene E adesso Se Topolino facesse l'attacco Non lo fa Lo so già Vai Infine Ce Accetz No 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 Cosa c'è? Giustare già? Terra... Ben... Mi ha fortuna. You're just wasting your energy What? Oh no, it's gone all haywire Oh no, it's gone all day Oh no, it's gone all day Where am I? Oh no, it's gone all day Aqua, you lost consciousness Fortunately, Mickey found you and Ventus drifting in the lanes between And brought you back to me to receive proper care I am sorry, but there was no sign of terror I see Then, Ventus The boy's heart is sleeping When will he wake? I could not say It is almost as though his heart has left Should it return, he may very well wake Should it not Then he may sleep like this for all eternity No I'll keep him safe Until he wakes Forever if I have to I will tell you what your friend needs right now It is not your protection He needs you to believe You see, Ventus' heart hangs in the balance It sleeps in the place between light and darkness From all I can perceive That means he will be looking for a friend One who believes in him To show him the way home Just as long as you love him Then Ventus will be able to find you when he wakes He can follow that love back to where he belongs The realm of light Don't you worry, Aqua I believe in Ben, too Gosh, he's been as good a friend to me as anybody And if both you and me believe in him with all our hearts Then he'll have two lights to follow instead of one Three lights Terra But Terra's gone Maybe for good I think I know how to find him E adesso Abbiamo finito Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix La storia di Aqua Mamma mia Quanto è toccante Per favore Ora Ovviamente c'è ancora tantissimo da fare C'è veramente tanto Unica cosa Vi chiedo scusa se durante la battaglia Non ho parlato tanto Ma purtroppo Non stavo tanto bene Quindi vi chiedo scusa A parte questo Davvero Adesso ci sono tante Tante cose di Cosa è successo adesso? Ben Cosa è successo? Come mai aveva il Keyblade? O meglio Il Keyblade Keyblade In mano Se invece era stato distrutto E questo È un rompicapo Alla fine Però non tanto rompicapo Per via dei prossimi Kingdom Hearts Comunque C'è ancora un mistero Dov'è finito Terra? Mo' Chi so Comunque Adesso Davvero Ci sono tante cose che vorrei dire Ma purtroppo Per via di spoiler Non posso dire A parte questo Chissà chi è Braig E chissà cosa vuole Mmm Ha solamente combattuto con acqua E poi è scappato Ma Chissà Però La frase che ha detto Braig È molto importante Veramente molto importante Come anche il nome di Eracus Io ho aspettato fino all'ultima storia Per dirvelo Allora Eracus È la cosa più comica È square Anagrammato ovviamente Ed è una cosa Molto bella Cioè come tocco personale Ma è anche comica Perché Andatevi a vedere Come mai è stato creato E come Qualcuno si è scordato La sua creazione del nome Davvero È divertente un po' Comunque A parte questo Niente Adesso state vedendo I titoli di coda E Veramente Non so che dire Poiché le cose che voglio dire Sono Molto spoiler Molto spoiler Ora Unica cosa Il prossimo episodio È particolare Molto particolare Perché Piccola cosa Che non ho detto I titoli di coda Questi Di tutte e tre le storie Non hanno Una canzone Hanno solo una melodia In sottofondo Ovviamente coperettata Quindi Dov'è La vera Ending Il vero La vera canzone La vera soundtrack Ma chi lo sa Chi lo sa Comunque A parte questo Abbiamo Finito Vi lascio Al me del Passato E quindi Niente Ci vediamo tra Pochi secondi Però Chissà dov'è Ripeto La vera soundtrack La cercatrice La cercatrice Livello di gioco Modalità critica Completamento diario Al 78% Numero di nemici Sconfitti 6323 Comando più usato Tandaga 1071 volte Stile più usato Brava magia 321 Ovviamente C'è lo stile di comando Più 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 del gioco Che vuoi dire gioco? C'è Wow Unione di più usata Esperimento 626 Non so perché Mi dice sempre L'esperimento 626 Comunque Tempo di gioco 23 ore 31 minuti E 35 secondi Menù di salvataggio E Salviamo Perfetto Hai salvato i dati Del gioco Che hai completato Potrebbero essere utili In futuro Perciò sarebbe meglio Non cancellarli Congratulazioni Hai sbloccato L'ultimo episodio Per giocarlo Prima Devi prima creare Un salvataggio speciale Crea E direi di farlo Qua Vai Ed ecco qui Final episode Salvataggio completato Puoi giocare All'ultimo episodio Selezionando i dati Salvati In carica Nello schermo Del titolo E adesso Abbiamo finito Ripeto Tutte e tre le storie E ora Nel diario trio Poiché Hai percorso Più di 9999 passi Vinci il trofeo Del passo Poiché hai sconfitto Più di 9999 Nations Vinci il trofeo Della lotta Allora Trofei E comunque Abbiamo preso Tutti i diari Di Xehanort Tutti Dal primo All'ultimo E Questa cosa Che vedrete Tra poco Del final episode O meglio Nel prossimo episodio Si sblocca Solamente Dopo aver finito Le tre storie E Consiglio Fatelo Finite le tre storie Prima di fare Questa cosa Comunque Questo è il trofeo Del passo Dovete fare Più di 10.000 passi E Si E' tanta roba Infatti Io l'ho sbloccato A fortuna Comunque 9999 Nations Se farmate L'arena del miraggio Li sconfiggete Senza problemi 9999 Nations E ora E Vabbè Ora questo qua Se mi ricordo Questo trofeo Che purtroppo Non si può cliccare Per vedere I cosi Come sbloccare Tutto Si ottiene Se non erro Finendo l'arena del miraggio Al 100% Completando Tutti i livelli Tutte le arene E Questo qua Se mi ricordo E' per i gelati Se non mi sbaglio Comunque Andiamo sulla storia Perché Poiché I filmati Li abbiamo tutti Ma cosa sono questi? Boh Li vedremo Allora Storia Acqua Acqua Fra virgolette Di quanto Un personaggio Passa Fa passare il tempo Da un mondo all'altro C'è Allora Ventus Ha fatto Da Il bosco De nani Al castello De sogne Ed Acqua Ci ha messo Praticamente Tre episodi Di terra Tre mondi Di terra Per arrivare Nel castello De sogne Cosa Ha fatto Acqua In questo Punto E' un Mistero Arcano Comunque Sì Dopo aver fatto Il castello De sogne Acqua Farà Tutto Di fretta Proprio Andrà Razzo Rimonterà Tutti Però Anche qua Risuccede Questa Cosa Perché Perché C'è Non Non ha Praticamente Senso Non ha Per niente Senso Perché Potevano Dire Nel Nel Momento In cui Acqua Fa Questi Tre Mondi Coso Come si Chiama Terra Va Alla Torre Misteriosa E Fin lì Andrebbe Bene Ma Mettere Questi Segmenti Enormi Per Dire Questa È La Prima Parte Di Gioco E Questa La Seconda Davvero Non Ha Senso Comunque Ventus Va Qui E Poi È Il Primo Ad Entrare Nel Giardino Radioso Ed È L'ultimo Ad Usirne Invece Acqua Ci sta Quasi Meno Di Tutti Perché Entra Salva Una Certa Bambina Di nome Kyrie Che Forse Non Avrà Un Risvolto Enorme Nella Saga Va A Sconfiggere Triarmatura Combatte Con Vanitas E Poi Va Via Invece Terra Fa Molta Più Roba E Ventus Ne Fa Molta Di Più Poi Piccola Cosa Della Città Disney Non Importa L'ordine Che Fate Dei Personaggi In realtà Non Importa Perché Perché L'ordine Cronologico È Terra Ventus E Acqua Però Potete Andare Anche Con Ventus Terra E Acqua E Ci Sarà L'ordine Più Vicino Qua Terra Cioè Ventus Terra E Acqua L'ordine Che fate Con i Personaggi Voi Sarà L'ordine Che vi Uscirà Qui Poi Vabbè State Vedendo Tutto Alla Fine Acqua Passa Moltissimo Tempo Nelle Vie Interdimensionali Per Nessun Motivo Cioè Vabbè Non è Neanche Spiegato Perché Però Guardate Le isole Del destino Poi Un altro Segmento Enorme Vabbè Comunque Una piccolissima cosa I tre personaggi Entrano Nello stesso Momento E ovviamente Ne escono Uno prima Uno dopo E uno dopo Ancora E a me Viene Il dubbio Perché Fargli Entrare Nello stesso Momento Quando L'ordine Vero E proprio È Prima Terra Poi Acqua E poi Ventus Cioè Cioè Metti Metti L'ordine Anche Qua Vabbè Comunque Davvero Alcune Cosi Ci hanno Un po' Di Meh A parte Questo Abbiamo Totalmente Finito E quindi Nel prossimo episodio Di Kingdom Hearts Built by Sleep Final Mix Andremo Nel nuovo Salvataggio Quindi Vi invito A scrivervi A lasciare Un mi piace O un non mi piace E ci vedremo Nel prossimo episodio Di Kingdom Hearts Built by Sleep Final Mix Alla prossima Ciao